Ci dice con precisione assoluta come differenziare i nostri rifiuti, cosa sono e dove li dobbiamo portare e persino a che distanza siamo dall'isola ecologica più vicina e se non sappiamo che pesci prendere con il suo scanner fa tutto lei. Non è una super consulente e junker, una semplice applicazione scaricabile sui telefonini di ultima generazione che ci facilita la vita e non poco di utenti virtuosi. Lanciata da Aset all'inizio dell'anno sull'esempio di altre città dove questa veniva già utilizzata, junker sta dando già i suoi frutti con oltre 2000 famiglie, 2959 per la precisione, sparse in tutti i comuni aderenti alla piattaforma Aset che la stanno usando con 30 accessi di media giornalieri ed una decina di persone che la scaricano ex novo. Abbiamo visto che non solo le famiglie, cioè gli utenti che hanno scaricato sono più del 10%, ma vediamo anche che questa app è un'app viva, cioè vediamo che ogni giorno ci sono persone che continuano a richiedere dati, continuano a conferire dati all'interno dell'app, continuano a chiedere notizie su dove conferire, come conferire, come regolarmente conferire le cose, e quindi questa è la cosa che ci dà più soddisfazione. Junker è facile da utilizzare, intuitiva, ha un menu che ti guida passo per passo in base alle tue esigenze e con un milione e mezzo di prodotti in memoria difficilmente non assolve al suo compito. Riconoscere questi prodotti per l'app è semplicissimo perché è sufficiente scansionare il codice a barra che troviamo appunto nel reto dei prodotti. È possibile anche effettuare una ricerca con il semplice tasto circa, oppure riconoscere il simbolo che identifica la tipologia di componente. Junker, una volta riconosciuto questo prodotto, ci permette di capire dove dobbiamo conferirlo e dove conferire tutte le sue componenti. Quali sono al momento gli oggetti più scansionati? La ricerca è molto vasta e questo per noi è una cosa molto positiva perché significa che c'è un interesse, un interesse a differenziare bene e anche un interesse ad utilizzare questa app e scoprirne le varie funzionalità. Sicuramente i prodotti costituiti da multimateriale, che è quindi come un tetrapacca che ha sia la carta che l'alluminio oppure anche gli imballaggi in genere che a volte non si capisce se è solo plastica, a volte non si capisce se è solo carta. Quindi i prodotti quelli un po' più completi a livello di imballaggio e quindi anche più complessi da capire dove dovrebbero essere conferiti. Grazie per la visione!